L'amministrazione Brucchi è oramai da molto tempo che è incapace di esprimere una progettualità, soprattutto di governare una città che ha grandi problemi e soprattutto quello di ritrovare una maggioranza. Il sindaco non trova la forza di dimettersi da questa posizione come dovrebbe essere in un senso di rispetto verso la città. Credo che siano i consiglieri comunali a questo punto che debbano mettere fine a questa amministrazione. Il Partito Democratico, con senso di responsabilità, ha deciso in maniera unitaria di tornare al voto perché c'è bisogno di dare una risposta ai problemi che la CTA e quindi una programmazione e una governabilità. Invitiamo tutti a fare questa riflessione e siamo disponibili non solo a fare le dimissioni ultra di medium, quindi davanti ad un pubblico ufficiale, ma anche ad aderire a forme di spiducia o mozioni pur di giungere alla conclusione di un percorso che oramai è già finito da tempo, attestare la fine di un'amministrazione. Grazie a tutti.